E salve amici, salvini, salvinetti, salvinotti, Andreotti e Marx Salve signorini amici della taverna e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Epipisio Cosa? Eh no, quello lì che inizia con l'E, episodio Ah ok, episodio si, come state ragazzi, come state? Qual buon vento vi può fare Qual buon vento E niente, siamo tornati qua E niente, oggi, sì, tra l'altro spieghiamo un attimo una cosa Gipo Perché la scorsa puntata abbiamo detto che ci sarebbe stata una puntata speciale Bene, ci sarà domenica, eh sì domenica, io penso quando lo registriamo Ci sarà non questo martedì, quindi non in questa puntata, ma la prossima Quindi martedì prossimo ragazzi Perché l'ospite con cui dovevamo fare le cose aveva capito appunto Che non era questo È un ragazzo un po' speciale È un po' speciale È un po' speciale Anzi link praticamente con il 5% di sconto su tutto il vostro server E anche le cose di Twitch di Dilan, Discord vari E poi anche dove potete comprare cose per 18 più Allora E sì, oggi in puntatina un po' chill Oggi molto chill, esatto Perché appunto c'è proprio all'ultimo Ieri l'ho saputo che per me, per noi oggi è domenica e quindi di sabato Ma di sabato sera Mi pare che ho No, stamattina Che minchia dico, era proprio stamattina Perché mi neanche scarizza, è vero Stamattina Abbiamo potuto trovare un qualcosa subito da fare Che per me sarebbe stata Per quella dopo di episodio E invece è questo Ci abbia cambiato più di tanto Anche perché come ha detto Gip Era un argomento Questo qua che andremo a trattare oggi Che volevamo fare già da un po' Sì, sì Però non è che ce lo sia Cioè non è che ci siamo magari pensati di cosa No, andiamo così ragazzi Sì, si parla e basta Pensiamo Però di che cosa parliamo? Lo dice il titolo Io non so Come lo chiamano? Non lo so Qualcosa I film basati su giochi Qualcosa del genere Esatto Oggi L'argomento principale è proprio quello Come avete visto Ma poi anche Proprio il primissimo episodio Oppure proprio quando spiegavo del podcast Che ne parla la prima volta Era proprio Quello che si voleva fare Videogiochi, ok Ma tutto quello che circonda è videogiochi Quindi film Giocattoli Non so Se magari qualche anno fa C'era veramente poco Da parlarne diciamo Di film Legati ai videogiochi In questi ultimi Due anni Forse Direi che sono uscite Un sacco di notizie Di serie tv Basate su videogiochi Film Basati sui videogiochi Poi adesso Andremo a parlare un pochettino meglio Però una miriade Un botto Un botto Il tutto Tutto Netflix Amazon Tutto Io Allora Io parto subito da quello che credo che tutti quanti abbiano visto Che è The Witcher Su Netflix Te l'hai vista vero? No Non me lo dire No Non me lo dire No Inizio ragazzi Ci vediamo così Perfetto Grazie 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 per essere No Ti lo devo ancora vedere Ma ti spiego anche il perché Perché sono pigro Ho 852 serie tv da finire No no Te ogni volta Oh ma Un film Che film mi consigli Cose Cioè invece di Farti consegnare un film E te lo guardi Poi Guardati sto cazzo Perché hai ragione Ma io sono Io amo le serie tv Però per il poco tempo che ho a disposizione In questo periodo della mia vita Prediligo più i film Perché Il film lo inizio e lo finisci A meno che non sia una saga O una trilogia Beh dai Alcune serie le inizio e le finisci Durano un giorno Però Esatto Cioè dipende The Witcher però comunque sono informato Sono informato su molte cose So che la serie tv va a riprendere Diciamo Gli argomenti Gli episodi che si vivono Nel primo episodio Di The Witcher Nel primo capitolo E sono anche fatti molto bene Sono molto simili al videogioco Ovviamente tutte e due Sono ispirati Nessuno si ispira all'altro Tutte e due sono ispirati direttamente al romanzo Sì 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 Esatto Però per come è riportato nella serie tv Per quelle poche scene che ho visto Anche le scene iniziali Ricordano molto L'inizio del videogioco Soprattutto Soprattutto c'è Vabbè Anch'io l'ho giocato Ma non l'ho proprio finito finito So ero Credo siano cinque Episodio Cinque capitoli E io ero al terzo No io anche non mi ricordo bene alla fine Non credo di averlo finito Perché poi avevo un attimo Deppato che avevo altri impegni Però ero arrivato anch'io Diciamo a metà più o meno Mi sembra Molto bello E comunque c'è un episodio Del Della serie Che è proprio Che parla Mi sembra si chiama La Stige Ok Perché è praticamente la prima scena del gioco La prima scena del gioco è il combattimento con la Stige E ci ho rivisto Visto che comunque il primo io l'ho rigiocato dopo aver visto la serie Ci ho rivisto proprio Molte tantissime similitudini Tranne Per Per il mostro Perché nel Nel gioco è una sottospecie di cane grosso e brutto Mentre nella serie È un affare un po' più grande Molto Secco Comunque piuttosto bruttino Vabbè l'importante è che sia brutto Sì Esatto Però comunque Sì No vabbè Punti di vista No vabbè ovvio Sono io con il giudicare Però no Ci sta sta cosa Tra l'altro Apri una pari in tesi Fan fact Gli attori che interpreta Geralt Nella serie tv È un grande fan Della saga videologica Di The Witcher È un grande fan anche di videogiochi C'è pure Fashion Alive In cui montò Il suo pc Ecco È un nome incredibile È un grande È un grande Sì No però è una cosa male Perché sicuramente Lui invogli ancora di più A cercare di Dare il massimo Per interpretare Il ruolo di Geralt Immagino che gli stia anche a cuore Assolutamente Sì Magari ogni tanto Ce lo vedi A lui A dirigere delle cose Perché dicono No effettivamente Non era così Dovete fare questo Capita spesso Che molti attori bravi Sul set Danno la mano al regista Tra l'altro Sempre fan fact È successo recentemente Tra Jack in Phoenix E Todd Phillips Nel film di Joker Jack in Phoenix Ha dato un grande aiuto Nella regia di molte scene Quindi no no Ci sta Ce lo vedo benissimo Lui Eh dai facciamo questo Così ci sta Ci sta Sì Però bella Bella Allora Da quante stagioni è conclusa Una? Sì sì Per ora Ok Non so se questo Il prossimo anno Ci sarà quella nuova Però comunque Ci sarà Aspettiamo Ma quella nuova Domanda Senza magari fare spoiler Se vuoi fare spoiler Vedete Quella nuova Andrà a diciamo Ripercorrere gli eventi Di The Witcher 2 O sarà un'altra cosa Magari vedremo cose Che Allora Diciamo che In primo e secondo capitolo Non sono Io credo Sia un Allora Anche il primo gioco Ovviamente Essendo il primo Riprende molto Dal romanzo Sì Cosa che Secondo me La prima stagione Ha fatto un mix Ok E la seconda stagione Secondo me Potrebbe Andare forse Un po' più Sul romanzo E un po' meno Sulla serie Il 2 non l'ho giocato Ok Ok Ancora non sono riuscito A giocarlo Purtroppo Perché A parte Quando usci Il mio pc Non avevo un pc Che lo reggesse E poi comunque Mi voglio Io ho fatto così Ho finito il 3 Ho iniziato l'1 Comunque poi finirò l'1 Riprenderò il 2 Probabilmente poi Mi rigiocherò il 3 Quindi Quindi Della seconda stagione Cose basate sul gioco Non saprei Però Sicuramente Rimanzo Ti interrompo Ma la prima stagione Finisce con la fine Del primo capitolo Cioè del primo gioco Di The Witcher E come finiva Eh non me lo ricordo Non me lo ricordo Comunque Vabbè Comunque Dire se magari Sono riusciti A ripercorrere Tutto il primo episodio Comunque Quindi il romanzo Anche Allora O se devono ancora Finire La prima Stagione Inizia Che C'è Siri e lui Che si devono Incontrare E finisce Che si incontra Sostanzialmente E nel mezzo Ci sono tutte le storie Di tutti e due Personaggi Molto bello Quindi io Non so se La prima Il gioco Finisce Che si ritrovano O cose varie O che nasce O non lo so E comunque Finisce così E secondo me La seconda stagione Poi sarà Che stanno insieme E poi E poi Una love story Incredibile Che non so se Te sai la storia Del perché A sua figlia Io non mi ricordo Io ho Dei voti di memoria Incredibile Per quello Vorrei rigiocarli Tutti e tre Come hai detto te Farmi una full immersion Sulla saga Di The Witcher E praticamente C'era Ora vediamo Se me lo ricordo Bene anch'io Questa Non so Che era tipo Favore Qualcosa del genere Che lui Fa Aiuta Questi qui E quindi Poi addiritta A questo Favore E Qualsiasi cosa Di inaspettato Che arriva Lui lo deve accettare Se non mi sbaglio Poi se qualcuno Se lo ricorda meglio Lo dica Però Mi pare fosse Una roba del genere E appunto La cosa inaspettata È stata Siri E lui Se l'ha dovuta Beccare Pensate Ma tra l'altro Vi racconto un aneddoto Che magari te Sicuramente sai Questo è più nel videogioco Non parlo di serie tv Ma c'è un instagram Fantastico All'interno di The Witcher Dove c'è una missione Dove Ora non mi ricordo Chi Chi era il personaggio È andato In un'altra dimensione E poi Questo è nel Del 3 Nel 3 Esatto Ok È Siri È Siri Ok vero Era Siri Che dice Oh wow Sono andato in un'altra dimensione Ho visto questo mondo Dove c'erano persone Che avevano Impianti meccanici Macchine strane Enormi Enormi Costruzioni E tutto Ed è un chiaro riferimento All'epoca Di cyber Sì Sta cosa era molto Ma poi Molti anni Prima Mi pare forse Anche della presentazione Di cyberpunk O almeno Comunque Chi È uscita Probabilmente Più tardi Questa notizia Perché giustamente La gente diceva Vabbè Che cazzo vuol dire No Infatti Cyberpunk Venne presentata La prima volta Cosa era 2011 2012 Ricordo che L'abbiamo visto Anche insieme Il primo trailer Era quel coso Di due secondi Con quella là In ginocchio E le due là Amanti Tra l'altro Ce l'ho Sono fighissime Non nella realtà Ma Non sarà In game Tra l'altro Nel gioco C'è anche un modo Per prendere Subito all'inizio Quando parti Quelle leggendarie Che sono C'era la mission C'era la missioncina Mi pare Che te devi uccidere Il I Psico Come si chiamano I psycho Psycho Criminali Sì Quelli Quella Psycho Psycho Così Devi uccidere Lo trovi In una casa Fai tutto sneaky Te le rubi Nella casa Te le vede Non c'avevo presente Ci sta Ci sta E quindi Raga Serie di The Witcher Su Netflix Consigliatissima Che non l'ha visto Non lo sapesse Date un check Tipo me Che io devo vedere Ora sai che cosa fare Ora so cosa fare Della mia vita Appena do gli ultimi esami Cioè mai Che cosa ti dici No No le lezioni Mi sono già iniziato Il problema è che C'è un esame Che ho con il buon Alex Che ci siamo portati Perché non siamo riusciti A darlo Che è la fisica quantistica Ah quello Non capisco il cazzo Ok È abbastanza pesante Vari sei crediti Tra l'altro Vari sei che io Parla per chi Non 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 ha fatto l'università No esattamente Un credito Corrisponde a 8 ore di studio Che tra studio tuo personale E quello a lezioni Non vorrei dire una cagata Non ho mai capito sta cosa Sicuramente quello Ho fatto a lezioni Quindi una materia Da 12 crediti Che è il massimo Che ho visto finora È una materia pesante Di solito annuale È bella pesante Tipo Tipo Analisi matematica Quelle cose lì Fisica quantistica Vale sei crediti Ok No Ma i crediti Poi che cosa ti A cosa ti porta Praticamente Nel corso Io per esempio Sto facendo la triennale Di ingegneria Informatica Come funziona Tu per sbloccarti Diciamola Per essere laureato Devi totalizzare 180 crediti 180 CFU Sono i crediti Praticamente E ogni corso E ogni corso Che superi Vale Top crediti Analisi uno Che tu lo superi Con 18 Con 30 E l'ode Comunque il corso Vale 12 crediti Quindi una volta Che hai superato L'esame Hai 12 CFU Fisica quantistica Questo qua Ne vale 6 Quindi se lo superi Ne hai E così via Finché non arrivi A fine Diciamo Il tuo ciclo di studi Di 3 anni Ad averne 180 Con tesi Inclusa Che la tesi Diciamo Deve trinare Vale 3 crediti E sei laureato Sei dottore In ingegneria informatica Ma una volta Cioè te Raggiungi i crediti E poi devi fare l'esame Allora Io Essendo che sono Nell'ultima fase Devo ancora ben capire Come funzioni Però Essendo che L'esame finale Vale dei crediti Io credo Che Quello lì Con quello Poi è finito Quindi Diciamo che tu L'esame finale Lo sblocchi Hai la possibilità Di farlo Quando hai Dato tutti Gli esami Precedenti Quindi finché Non dai tutti Gli esami Non puoi fare L'esame finale Quindi Poi lo fai Prendi gli ultimi 3 CFU Tanto bravo Sorseggio Anch'io Mi preparo La cioccolata fondente Whisky Ma te lo devi bere senza Cioè è bello liscio Eh capito Ma va gustato O con un bel cubetto Di ghiaccio Va assaporato Perché Per chi non lo sapesse Cioè Se Prendete un buon whiskey E gli mettete Un bel cubetto di ghiaccio Solo uno di quelli Belli grossi Gli lo mettete Ed esalta di più I sapori Invece Quando poi Ovviamente Ce n'è troppo San acqua Veramente troppo Oppure Come fa Dylan A cioccolato Si mangia tutto E se lo cosa Per fondente 70% Il tuo Sì Quello che ho mangiato L'altra volta Non so Si produce Su 73 Forse Di solito Di solito Praticamente Si mangia Un quadrotto Di cioccolato Fondente Lo fai passare Bene bene Su tutta la bocca Fai prendere Bene bene Tutto il gusto Poi la cosa Che andrebbe fatta È Prendere un bicchiere D'acqua fredda Buttarlo subito giù In modo tale Che lasci il gusto Del cioccolato In bocca Ma togli Il grasso Che lascia il cioccolato E poi Butti giù Un po' Di tali In questo caso Talis Comunque un po' Di whisky Bello affumicato Deve essere Per risaltare Più questa cosa Lo fai passare Bene bene Su tutta la bocca E lo butti giù Il mix Di sapori Che senti È qualcosa Di fantastico Perché Uno Non sovrasta L'altro Riesci a sentire Bene bene Entrambi 100% L'ho mai provato Non so come È un must Si può anche Fare il contrario Prima il talis Che poi il cioccolato Io Personalmente Con il Prima il whisky E poi il cioccolato Io personalmente Con il talis Preferisco In questo modo A me Tutte ste cose Mi piacciono molto A liscio Perché sono un amante Di sentire I veri sapori Quando si parla Di queste cose E quindi Tipo appunto Cioccolato 100% O Il caffè amaro Che è tutto iniziato Dal caffè amaro Che Tanti anni fa Mi A quanto pare Mi trovarono Un problema Che Avevo bisogno Di Fare una Sottospecie Di dieta Che non potevo Mangiare Determinate cose Praticamente Non potevo Mangiare Quasi un cazzo E Stesso tempo Amo il caffè Senza zucchero Quindi da una parte Ho l'idea Di assaporare Il gusto del caffè Dall'altra parte Ho l'idea Di sentire proprio Il gusto del sale Su vari piatti A me piace Non esagero Perché comunque Fa male Però ne metto Magari Un pochettino Ma proprio Un pizzichino In più Mi piace Un sacco Ho un problema Tipo No tra un po' Non sentirei più i sapori C'è una buona regola C'è proprio regola Una cosa buona Che si potrebbe fare Anche nel gelato Ad esempio Il pistacchio Se ci metti Due grammi Di Di sale Sì E diventa Porca puttana Quanto lo esalta Il sapore Io Io sono un amante Del cremino Al pistacchio Ecco Allora Il cremino Il cremino Ora te lo dico Sì Quando si tratta di cremino Si utilizzano I prodotti più scadenti Per fare il cremino Frega zero È stata buona Ecco Perché è buono Perché è la roba maturata Vedi la nutella Con l'olio di palma È buonissima No vabbè Quello non c'è C'è L'hanno rimosso in tutto Cioè almeno dicono Ci mettono olio di gomito E basta Quindi sudore No Ora io non so esattamente Perché giustamente È una cosa loro Io qua a Genova C'è una gelateria Molto famosa Ce ne sono due Molto famose Una è la flora E un'altra Che è un ottimo concorrente Che ha parecchie figliari Qua a Genova La bottega del goloso Trovate un saluto Alla bottega del goloso Ciao E loro sono famosi Per due tipi di gusti Che fanno loro Che uno è il cremino Classico E l'altro è proprio Il cremino al pistacchio Che è qualcosa di paradisiaco Perché tu hai Quella sensazione È molto denso Come se tu stessi mangiando Sai tipo il gelato Alla nutella Che è un po' denso Ok Leggermente Lievemente pastoso Con il gusto del pistacchio È qualcosa di stra buono Posso dirti Grazie al cazzo Perché si fa Il cremino è Strato di nutella E poi è tutto Quello di nocciola Quello classico Tutto poi gelato Alla nocciola E in cima Un altro strato di cioccolato Quindi di nutella Quindi è normale È più cremoso Perché quando prendi C'è la nutella Normale Poi noi non si utilizza La nutella normale Comunque la nutella È crema di nocciola Quindi ne prendiamo Un'altra che fanno Per noi Visto la nomea Perché comunque Dovete sapere Che quest'uomo è famoso E non sto scherzando Sono serio Vorrei assaggiare Il cremino al pistacchio No noi non lo facciamo Al pistacchio Costa troppo Ora tu lo fai Va bene Costa troppo Mi scassi le bari Mi fai un chilo Di cremino al pistacchio Te lo pago Te lo pago Vabbè Per dirti Pistacchio e pinolo Se la combattono Il pinolo Mi sa che Che arriva A 120 euro Al chilo Mi sembra E Comunque Il Fai conto Tipo un fior di latte Normale Ti viene a costare 4 euro A vaschetta Ok Il pistacchio 22 euro Ma Quindi c'è Una bella differenza Però comunque Si utilizza Quello di Bronte Che non è mai 100% di Bronte Perché Bronte Come zona È piccola È un mix Comunque Quando dicono Bronte Almeno al 60% È pistacchio di Bronte E il 40% No è comunque Un mix Di pistacchi Sempre Lì della Sicilia Però quando È Bronte Almeno il 60% Si No ci sto Che Se vedi Un pistacchio Che è verde Vuol dire Che c'è la clorofilla Che è un colorante Perché non è verde Il pistacchio È marroncino Verdogno È più edato Tende più Allo scuro No no Quello è vero Quello Quello è vero Quindi ora lo sanno Infatti non vado Per quelli completamente verdi Perché un po' Si percepisce Si cambia anche Comunque il gusto La clorofilla Lo alterò un po' Quindi ragazzi Non fidatevi E un'altra cosa Perché non parlando Allora Parlando di gelati Adesso sto Facendo un nuovo gusto Che È molto semplice Ed è ispirato A Perseverance Oh Che cosa cagliene E E niente Poi Non vuoi Eh non dico Non dico Non dico come sarà Te lo dirò a te dopo Però Sto facendo Come ho fatto Per il Twin Peaks Ragazzi Il Twin Peaks È andato bene Questo uomo È stato chiamato in radio È stato rituitato Dall'attore Che interpretava Il McCaslan Che fa Dale Cooper In Twin Peaks Che io ho preso Il nick cover Proprio da lui E niente Era molto contento Del mio gelato Magari Verrei rituitato Dalla NASA E infatti Ci penserò E vediamo un pochettino Che succederà Perché comunque È una cosa bella Quando qualcosa Riesce ad atterrare Su Marte Perché Non è tutto immediato Il fatto dell'atterraggio È la parte Molto È la parte più difficile Di tutta l'operazione Perché C'è un bel delay Quella è la partenza Quella è la partenza E quindi È sempre una cosa bella E volevo fare questo Che appunto Riprenderà Marte E niente E se volete Bervi cose buone Anche Un buon room Lo Zaccafa 23 Abbinato Con un buon Coiba Che è Un sigaro Qua ragazzi Esperti Incredibili No ci sta Però Torniamo un po' Sulla nostra puntatina Ma torniamo a noi Esatto Torniamo a noi Con Dopo The Witcher Un'altra notizia Che Che forse è quella Che vedo Più Più concreta Visto che Le riprese Sono anche finite È quella del film Di Uncharted Ah Sono già finite Sono finite Le riprese Uncharted Ah No io stavo pensando Un'altra cosa Ah Uncharted È vero Bella Per Tom Holland Uncharted Esatto Quanto more Come Nathan Drake Da giovane Che secondo me Ci sta bene Anche come carisma Che a lui L'attore Potrebbe fare Un'ottima interpretazione Di Nate E sì Le riprese Sono ufficialmente finite L'uscita del film Però è esrittata Se non erro A febbraio Prossimo Doveva uscire A luglio di quest'anno È esrittata A febbraio Dell'anno prossimo Credo anche Ovviamente Il solito E tutto Ovviamente Anche se Diciamo che Adesso La parte Ora c'è Tutto il montaggio E altre cose Adesso viene Tutta la parte Un pochettino Pi menosa Però sì È finito Io Ripongo Delle belle Aspettative Per questo film Perché il casting Mi piace Il casting mi piace Io Allora Tom Holland È comunque Ora per tutti Quelli che lo criticano Per Spider-Man Perché hanno Stravolto Hanno cambiato Tra l'attore Eccetera Comunque Tom Holland È veramente Un bravo attore Per chi ha visto Le strade del male Su Netflix Lì comunque Può dire che È un bravo attore Tom Holland Come Robert Pattinson Che è diventato Veramente Una bella mina Molto Molto criticato Per Twilight Però Uscito diciamo Fuori dalla fama Dalla cerchia di Twilight Ha fatto molti film E hai citato Benissimo Anche qui Nelle strade del male C'è anche lui Esatto Uno Uno Forse che mi avevi consigliato Te che è l'ultimo Che ho visto Con Pattinson The Lighthouse Che riprende un po' Lovecraft Quindi anche qua Videogiochi Che hanno fatto I giochi di Lovecraft Literatura Tutto Qua Dalla taverna podcast Troverete di tutto Ma comunque È un bel film Molto strano Parla della solitudine Racconta la solitudine Il film Nella sua chiave Molto figa Con un bianco e nero Stupendo Che è lo stesso Di Eraserhead Di David Lynch Ed è un bel bianco e nero Anche quello Tra l'altro ovviamente È uno di quei film Che ha parecchie chiavi Di lettura Cioè Puoi vederci Semplicemente Una rappresentazione Cinematografica Di alcuni elementi Della mitologia Comunque Semunerro Greca Come puoi vedere Magari In questo caso Come ha visto Gipo Ma ho percepito Anch'io Una chiave Direttura Che riguarda Proprio La solitudine Proprio La rappresentazione Anche fisica Sotto certi aspetti Della solitudine Molto bello Comunque C'è anche Defoe Quindi Defoe Anche lui È una bella Pietra Di attore Per chi non Non gli figli Il Il Defoe È Joker Goblin Di Spider È la prima trilogia Di Spider-Man Di Sam Raimi Di Sam Quella con Tobey Maguire Bella per Sam Bella per Sam Comunque è lui Comunque esatto Lui No anche lui Ha recitato Divinamente Ah beh lui si Molto Molto bravi Bello Ragazzi È un bel film È un bel film Bello brutale Anche Pesante È pesante Questo è un film Per quelli A cui piace il cinema Perché Ad esempio A me piace molto Il cinema L'ho anche studiato A scuola E Però ci sono comunque Quei film Che dico Ad esempio Avengers È uno di quei film Che dice Vabbè voglio passare Due tre ore Così A guardare qualcosa È quel tipo di film E ti diverti anche Invece The Lighthouse È uno di quei film È praticamente Il velocino Io concorro Ma come anche te E qua Unpopular opinion Con Una frase Che disse In intervista Recentemente Steven Spielberg Che dice che I film Dei supereroi Stanno Hanno un pochettino Rovinato Uccidono O perlomeno Non si possono Definire Non si può definire Cinema Ora Probabilmente Verrò linciato Vivo No vabbè Però concordo Con la tua cosa Cioè sono dei film Che a me divertono Piacciono Molti magari Sono Intrattenimento Possiamo definirlo Intrattenimento Che Alla fine Il cinema È quello Come può essere Il teatro Però è anche arte C'è anche studio dietro Quindi film più Difficili Da capire Da guardare Anche Come The Lighthouse E Razored Che è il primissimo Film di David Lynch Questi sono veramente Film difficili Da guardare Ma Sono film Invece Avengers Non è difficile Da guardare No esatto È un film di Intrattenimento Per me Cioè È sempre cinema Perché è semplicemente Come anche l'arte Che ha O la letteratura O qualsiasi altra cosa Che ha un sacco di sfaccettatura Un sacco di sfumature Così ha anche Il cinema Quindi Cioè ci sta Io per esempio Non sono un grande appassionato Ecco Dei film Degli Avengers Perlomeno Mi piacciono più I film singoli Dei supereroi Tipo Spider-Man Iron-Man Presi singolarmente Per esempio Però quando fai un mash-up Non lo so Sarà che poi Vado in Mindfuck Troppo in versi E qua Cioè Poi lo sono riguardati Tutti Quanti Proprio in ordine Ho cercato su internet Ordine Prima di riniziare a lavorare Me li sono guardati Perché non me li ero visti Proprio tutti Ho detto Ma sì Dai Perché ci stanno Appunto Sono quei film che dici Vabbè Voglio passare Una settimana Mi va di guardarmi Ste cose E me le guardo Te li guardi Sono belli Sono fatti bene Ti intrattengono Non Non richiedono Tanta concentrazione Come puoi richiedere Per esempio Un The White House Ovviamente E forse proprio per quello Ci stanno Un ottimo Scacciapensieria Però diciamo Anche The White House Come Tantissimi altri film Sono film di nicchia Cioè il cinema È di nicchia Sì Si Si può dire Perché Avengers Non è un film di nicchia No The White House Voglio vedere in quanti Te lo conosco Ho un altro Molto bello Tra l'altro Sorprendentemente Un film italiano Che mi ha consigliato Sempre quest'uomo Mi sento di consigliarvi Perché è veramente Molto bello È oltre Non mi ricordo il nome Però io sono scemo Dico è stupendo E poi non so il nome Dai lo so che lo senti Qualcosa River Sì Sì Dai Io credo in te Tu puoi farcela Credi nel cuore delle carte Across the river Sì Che in italiano è Oltre Perché in italiano Un attimo Un'altra traduzione E praticamente Oltre il fiume Perché il river Sì Anzi vabbè In italiano Oltre il guado Oltre il guado Ecco Comunque sì Film Italiano Lorenzo Bianchini E Bello Questo è stato un vero horror Perché io mi sono rotto le balle Dei classici horror Dove Oh mio dio Il tavolo si alza da solo Oh mio dio Giochiamo Facciamo giochi strani Con tavole strane Demoniche Basta Non ho rotto le balle Questo è un ottimo horror psicologico Porta miseria a ballo È veramente a ballo Sì Non ho visto il secondo Però ho scoperto Che c'è anche un secondo Ho visto il primo E devo dire che Forse sarà perché Mi fanno un po' paura Con le ambientazioni E quindi sta cosa È claustrofobico Però esatto L'atmosfera c'era L'atmosfera c'è Magari non è Che briga di trama Ma porta miseria L'atmosfera c'è E ti inquieta Ti inquieta Mi ha ricordato molto The Forest Sì è vero Sì ci sta Ci sta È vero Carino Carino Il secondo devo vederlo Hanno detto che è un po' più Una tamarrata Però Sai è il classico film Dove I sequel non è che siano Chissà che cosa Quindi ci sta E niente Quindi Ritornando al nostro Uncharted Tra un po' Lo vedremo sugli schermi Sperando di poterlo Vedere al cinema E non E non Teoricamente A febbraio 2022 Si spera È tutto molto teoricamente Questo è il problema Quindi speriamo Bene Fatto sta Sono Sono contento Comunque Ripeto Di Tom Horan Ce lo vedo benissimo Non mi ricordo Che interpreta Sully Allora Sully Se non mi sbaglio È lo stesso Che interpreta Quello che fa Polar Vediamo un pochettino Uncharted Vediamo un pochetto Ah no Sullivan Lo fa Mark Mark Ok Ma c'è anche Cosa Brian Cranston Come c'è anche lui Walter White E perché ci fa anche Antonio Banderas Come c'è Antonio Banderas Sì c'è Antonio Banderas Ma no Ma c'è Antonio Banderas Ma basta È fin della vita Comunque Mark Per un Sully da giovane Se truccato Ovviamente Comunque In modo appropriato Ci sta Secondo me Ci può stare Bisogna vedere Le truccatrici Che Ma sai Perché se fanno Comunque dal primo Partono Che è giovane Quindi comunque Sullivan Era giovane Poi Prima del primo C'è un po' La tua scelta Di Nate Quindi C'è Già se Uncharted Parte Con Nathan Che era proprio Già uomo E Sullivan Era giovane Allora Ci sta Che comunque C'è questo cast Di giovani No no Infatti Sono Sono contento Sono contento Come sempre Diciamo in tema Naughty Dog A livello videoludico Sono contento anche Qua parliamo di serie tv Non di film Per la serie tv Di The Last of Us Ah era proprio Proprio serie Proprio serie tv No serie tv Se non ho sbaglio Dietro C'è l'HBO Non vorrei dirti Una cagata Sicuramente c'è qualcuno Che A interno a Sony Che controlla Ovviamente Sì Voglio Voglio vedere Sì c'è l'HBO Serie tv Delle HBO Ragazzi Di Uncharted Sono molto contento Di Uncharted Di The Last of Us Eh di The Last of Us Scusate Di The Last of Us Perdonatemi Andrà a ripercorrere E qua Ci può stare Quello che abbiamo Fatto nel primo episodio Ovviamente Soffermandosi su dettagli Che con il videogioco Non abbiamo avuto modo Di soffermarci Quindi da quanto ho capito Non è La storia magari Di cosa è successo A Joy Quando è morta La sua figlia Naturale A quando incontrerli Quindi diciamo Più o meno Poco dopo L'inizio del primo Non è che ti spiega Cos'è successo Nel ponte Tra The Last of Us Una della sua fase 2 Ma ripercorre Della sua fase 1 La prima stagione Poi bisogna vedere Se ne faranno altri Bisogna vedere Se la prima stagione Terminarà con Della sua fase 1 Non lo sappiamo Ed una parte ti dico Secondo me ci sta Perché stavo immaginando Cosa avrebbe potuto fare Joel Prima che incontrassero Cioè Sopravviveva Normal E basta Quindi secondo me Soffermarsi Su certi dettagli Degli eventi Del primo Della sua fase Magari andando Ad approfondire Il rapporto Tra Joel E Darby Ci può stare Sì Sì Secondo me È un ottimo Un ottimo Approfondimento Di quello Che non abbiamo giocato Eh esatto Esatto Sono un po' titubante Per i casting C'è altro per Elby Io per tutte e due Però No Veramente Per tutte e due Sì Allora Dalla parte di Joel Abbiamo Pedro Pascal Che Diciamo Il protagonista Di The Mandalorian Ed è anche Stato il protagonista E io l'ho visto lì Perché The Mandalorian Non ho ancora avuto Modo di vederla Di Narcos La serie tv Che racconta La storia Diciamo Di Pablo Escobar E lì posso dire Poi non so In The Mandalorian Ma chi l'ha vista Mi ha detto di sì Che la recitazione Di Pedro Pascal È stata di viena Cioè In Narcos Ha recitato bene Così come mi è stato detto Anche in The Mandalorian Comunque È un bravo attore È un bravo attore È un bravo attore E anche qui Visivamente Truccato a bestia Ci potrebbe stare Come un gioio Un pochettino più giovane Quindi quello di Ora vorrei mettere Il L'affare con Il riquadro di Google Però Essendo che ho spostato Tante immagini Tra cui quelle del Dello sfondo Che l'ho rimessa Solo per qua Lo dovrei rimettere Per tutte le scene E Lo dovevo fare prima Quindi Non vi metto La differenza Però andatevelo a vedere Adesso Mentre ve lo diciamo Cercate su Google Secondo me Basta che Se cercano Pedro Pascal Joel Lo trovano Senza problema Io boh raga Cioè nel senso Secondo me Lui truccato bene Ci potrebbe ancora Allora Io non sono Proprio convinto Di lui Ma Ci può stare Anche qui Bisogna vedere Un po' Quanto era giovane Lì Esatto Lei invece sono A livello estetico Parlo di viso Proprio paragonandola A lei Della nostra Amatelli Della saga Videoludica Lei non ce la vedo Per niente Ora Non so come sia Come attrice Lei è famosa Si chiama Mi sfugge il nome Bella Ramsey È famosa per aver recitato Il ruolo di un personaggio Nella serie tv Di Game of Thrones Che io non Conosco Perché non Un po' La repinione A me non è piaciuta Game of Thrones Anche te Benvenuto del club Probabilmente Un giorno Se me la guarderò È perché non avevo Nient'altro da guardare La prima stagione Forse metà La seconda Soltanto per La Targaryen Per Emilia Crac Che fa Per lei nuda Beh beh Adesso non stiamo E tutte quante nude Sostanzialmente Allora io non ho visto Nemmeno Narcos Perché non mi interessava E nemmeno la casa di carta Sinceramente Tantissime cose popolari Mi scendono un po' le palle Perché la gente A forza di parlarne Sembra già come Se tu l'avessi visto Sì No a casa di Ora non so Narcos Quanto sia stato Popolare Casa di carta Troppo e non l'ho vista Manco io Narcos mi è piaciuta Perché storicamente Parlando È È fatta bene È fatta veramente bene Storicamente parlando Questa è una cosa Molto italiana Perché Si parla Di un mafioso Della Sicilia Di cui non mi ricordo Il nome E La serie tv Dove c'è anche Carlo Che si chiama Non me lo ricordo più E c'è un nostro amico Tra l'altro Un saluto a Cario Che ci segue E qua sono sicuro Mi dispiace che non me lo ricordo Perché sono il fan Numero uno di Carlo Carlo Pertonaci Io Ti adoro Tu reciti da Dio E Ho visto delle Io non vedo la serie Però ho visto qualche clip E ho recitato molto bene E Quindi perdonami se non mi ricordo Il cacciatore Il cacciatore Bravo Grazie Ce l'avevo proprio qua E lui interpreta Il tedesco Che è praticamente La spalla Del Boss E interpreta molto bene Sì è bravo Carlo Il Carlo è proprio la voce Il timbro di voce Sembra molto La doppia Carlo ha una voce da sesso Mamma mia Carlo Se ci stai seguendo Se stai vedendo questo video Chiamami Cioè Oggi abbiamo messo una storia Su Facebook Dove c'era una sua foto Da giovane E io ho detto Di solito Da noi si usa dire Sei bello come il Carlo Non sei bello come il sole Ma certo Quanto ci manca A fare una bella Warzonata Con il buon Carlo È da un po' che non la si fa È vero Ma lui Ora gioca sempre Red Dead All'RP Che dovevo fare anche io Il provino per entrare Nel server Ma poi c'è stato Red Dead? Sì Ed è molto bello Interessante Molto molto bello È suscitato la mia curiosità Il mio interesse Andrò a vedere Tipo Tipo Fai Ho letto il regolamento Ed è abbastanza tosto Per magari Io e te Abbiamo praticamente Giocato Arma 3 Altis Life E lì non è che Le regole Ci fossero chissà Che regole Diciamo Ce n'erano Facili da ricordare Ci stavano E lì invece Vieni punito Tra virgolette Se non riesci a fare L'RP Dalle regole Che ho letto Hai un po' di punizioni Se non riesci bene A fare l'RP Quindi Noi avevamo I crostaci Noi avevamo fondato Una gang criminale Chiamata I crostaci E Eravamo famosissimi Nelle server Perché Eravamo nemici Della polizia A volte avevamo Qualche interagazzo Qua e là Con dei mercenari E con un'altra gang Rivale E eravamo dei bastardi Allora Noi coltivavamo Droghe di ogni tipo Andavamo proprio A convogli Con i camion E gli elicotteri Facevamo azioni Mi ricordo c'era anche una clip In cui si rincorreva Stavamo rincorrendo Uno Noi avevamo il camion Con della roba da vendere Stavamo comunque rincorrendo Uno con il camion Sì Fregava zero Vincevamo Aprivamo i culi I culi E poi c'era un povero Un povero ragazzo Che poverino Era un civile Si ha fatto un mazzo Per riempire un camion Di diamante Noi Essendo cagavamo i crostaci Noi uscivamo Sbucavamo dall'acqua Con le tute da su Quindi dalla spiaggia Siamo sbucati L'abbiamo assaltato Venduto tutto Ragazzi Artist Life In Arma 3 È una cosa fantastica Io non so come sia adesso Sono passati parecchi anni Però mi ricordo Ho solo bei ricordi Sì è vero Sì sì Ho solo bei ricordi È stato veramente bello Una volta mi ricordo Ci catturava La polizia ci portò via Ed è che eravamo a fare Proprio i gusci di tartarughe Che era illegale Ah sì Bracconaggio Sì Siamo a fare bracconaggio Ci avevano beccati Ma siamo riusciti comunque A fare la liscia Esatto Una volta in prigione Siamo riusciti a evadere Poi una volta ci siamo catturati Ed è stato il momento più figo Quando il generale Ci ha fatto l'elenco Di tutte le azioni finali Non finiva mai Ora venite bannati dal server Però bello Un botto di roleplay C'era anche gente di 40-50 anni Che giocava Mi ricordo Molto bravo a fare roleplay E poi nemici in game È bello del roleplay Nemici in game E poi fuori dal server Cambia È come se vissi proprio recitando una parte Un po' come quando Come la box Prendi a pugni il tuo avversario E ti congratuli alla fine Esatto Quando magari intanto è morto Per te Congratulazioni E non apri una mano Qualche spasmo Con gattolazioni Complimenti E quindi niente Tornando a The Last of Us Sono un po' titubante Come anche te Immagino Per l'attrice Perché non ci vedo Una somiglianza ad Ellie All'epoca Vedevo molta somiglianza Ad Ellie Con Ellen Page Adesso È diventata Elliot Page Per chi non lo sapesse Quella di Come si chiama la serie Beyond to Soul In attesa È morto Ho dato un pugno Troppo forte Aspettate Sistema Cosa accade? No è Che ha fatto la serie Quella dei ragazzi Marema Ah Umbrella Umbrella Corporation Di Umbrella Academy Di Umbrella Academy C'è lei? C'è lei Sì 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 Ma veramente? Eh sì Non l'hai vista No devo vedere È carina È una serie tv molto carina Ci sta Comunque sì C'è lei Dylan comunque è morto Eh no Speriamo comunque facci Un bel lavoro Perché i film In questo modo Ci stanno veramente Un sacco Di In questo mondo Post apocaliptico Con Zombie Infatti sono anche Molto curioso Di vedere Come hanno riprodotto I clicker O i classici runner Sono veramente Veramente curioso Sì E Un film Del genere Molto Post apocaliptico Anzi film Serie tv Se vi interessa È uscita da poco Ehm Tribes of Europa Veramente bellina Mondo post apocaliptico Praticamente La Eccolo Is back Grande di là Probabilmente adesso Scatterò Perché la tricamera Mi ha dato ovviamente Dei problemi Però questa è una Una sottospecie di Blackout totale Qualsiasi cosa D'elettronico Ha smesso di funzionare E poi lì Ehm Ovviamente poi Il governo è caduto E le tribù I clan Sono diventate Le nuove Ehm Si chiama Si S-e-e Proprio come Vista Vedere Ok In cui c'è Jason Momoa Aquaman Per chi Forse per Aquaman O quello che si fa O quello che si fa La Targaryen In Game of Thrones Per chi ha visto La prima stagione Ehm Sì Praticamente parla Della stessa cosa Però questo parla Di un virus Che ha colpito La vista Delle persone E tutte le persone Nascevano cieche E quindi Tutti quanti Nel pianeta terra Sono cieche E chiunque Parli della vista È un eretico E chiunque Dica di vedere È un eretico Quindi la vista È come Essere È come essere Proprio eretico Proprio non credere È veramente Veramente bellina Sto aspettando La seconda stagione Perché è proprio bella No ci sto Molto interessante Ci sto Ci sto Eh No ragazzi Bei titoli Bei titoli E vedete Anche un po' di cinema Ogni tanto Ma come ho detto Secondo me Poi bisogna fare Anche una puntata Proprio sullo spazio Soprattutto Anche adesso Che Che Siamo Nella nuova era Con Perseverance Sbagliamo Spaziamoli Spaziamo E niente Raga Poi inoltre Riuscirà Anche Però qua Io almeno Sono poco informato Non so Gipo La serie tv Su Amazon Prime Mi sembra di Sonic Serie tv Sì Mi sembra di sì Ah perché c'è il film Di Sonic C'è il film Anche con Jim Carrey Se non sbaglio Adesso Mi sembra Su Prime Uscirà poi La serie tv Di Sonic Come anche Già che ci siamo Uscirà anche Una serie tv Sempre su Prime Se non sbaglio Vorrei dire Delle cagate Di Fallout E della saga Di Elder Scroll Questa non la sapevi Manco te Ho bisogno di bere Ok Usciranno Delle serie Allora Sul Fallout Ci può stare bene Come ambientazione Su Elder Scroll Dipende come la strutturano Vabbè Se la strutturano Un po' A modi Signore Quattro ore A puntata No Se la strutturano Un po' Forse come Game of Thrones Secondo me Alla fine Oppure C'è sempre su Netflix Cursed Ok Serie tv Fantasy All'ennesima potenza Veramente bella Molto molto bella C'è Flochi di Vikings Non mi ricordo Il cognome Dei fratelli Però che è uno Dei fratelli Di quello che ha fatto Pennywise E' veramente Un bravo attore Comunque Una bella serie tv E secondo me Per chi l'ha vista Un mix Tra Cursed E Game of Thrones Potrebbe Starci Un Elder Scroll Se esce in quel modo Bisogna vedere Bisogna vedere Io Se devo essere sincero Come ambientazione La serie tv Sono Più propenso Per quella di Fallout So che comunque Avevo anche riportato La notizia Stanno lavorando Ad entrambi Ora non mi ricordo Chi è la casa di produzione Che ci sta lavorando Esattamente Comunque dietro Ovviamente Controllare alcune cose C'è sempre Bethesda Però per dirvi La fanno male come il gioco Buggata La fanno la serie tv Vedi uno I attori Parranno così Allora Allora Però senza muovere la bocca Anch'io una volta Con un avventuriero Come te Eppure Quando Quando ammazzano a uno Vedi che Tipo gli esplode il braccio Va tutto e saluta Voli Voli Se gli incontri Sono un gigante Fai il sport Sei tu per sé No Fantastico Però sono curioso E questo anche per dirvi Che in questi ultimi Quest'ultimo annetto Due anni Il mondo videoludico Sta spingendo molto Su riportare Diciamo L'ambientazione L'errore Dei propri giochi Nel mondo del cinema Ma perché ci sta Comunque Un gioco Può essere anche Un film Benissimo Cioè Più o meno Parti dalla stessa cosa Cioè Quando Te crei un gioco Parti da un'idea Come Quando fai un film Esatto 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 E inoltre Inoltre invece Una serie tv Che Di cui sono Un pochettino Mi piace Io amo Alla foria La saga videoludica È una delle mie Salle preferite Ma sono un pochettino Scettico Sulla serie tv Quella di Mostaranta Che è la della Capcom Però c'è la gnoccona Chi c'ha? La cosa? Quella di Resident Evil? Sono un po' Meno titubante Allora Capcom Io ti amo Ti voglio un mondo di bene Potevi scegliere Tra 250 E hai scelto Roma Ora Quella di Resident Evil Hai già fatto Dei film Ok Potevi fare Magari una serie tv Che non sarebbe stata male Sulla saga Di Devil May Cry Che Magari andare A riprendere Alcune storie Della lore Ci starebbe Perché è mostrante? Perché è mostrante? Che è una storia Incredibile E poi Perché è mostrante? Secondo me Mostrante Diventa un Pacific Rim Ma senza i robottoni Che li combattono Potrebbe anche essere Curioso a bestia Ma ho una paura A bestia Della cosa Cioè Boh magari esce una figata assurda Magari no Però Comunque Devil May Cry Per serie tv Non lo so Mi sembrerebbe un po' strano Sarebbe strano Però a livello di trama Riesco a giustificartelo di più Rispetto a Monster Hunter Inoltre Sempre Capcom È al lavoro Alla serie tv Di Resident Evil Come ben sapete Ora a parte i film Fatti con gli attori veri Capcom ha anche fatto Dei film In computer grafica Di Resident Evil Che sono anche Molto belli Ti consiglio di vederteli Ora mi sfuggono I titoli sono due Se non sbaglio Due o tre E fatti molto bene Soprattutto il primo Quello che ha come protagonista Claire e Leon Mi è piaciuto molto Fatti in computer grafica Diretti da Capcom E hanno intenzione di fare Su Netflix Una serie tv Fatta anche essa In computer grafica Quindi in CGI Ok Sono contento di questo Sono contento Una serie Una serie Un film bello In computer grafica Di un gioco Uscito tanto tempo fa Ecco lo di Dead Space Quello è veramente 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 Esatto Sembra disegnato Veramente bello Quello è stato Bello Anche perché Ha ripreso Secondo me Anche secondo Gipo Mi sa Bene bene Le atmosfere Di Dead Space Assolutamente Anche a me Mi ha inquietato Veramente Veramente Tanto E me lo vorrei Riguardare Volentieri Perché è veramente Bello Sarebbe bello Riprendere Però Yei ha affondato Tutto Perché Yei fai schifo Sì vabbè Però adesso Questi qua Sono stati smart E hanno detto Vabbè Ci amano tutti Facciamo uno studio Tutto nostro E facciamo uscire Callisto Protocol E vediamolo Questo Callisto Protocol Sono molto in hype E molto curioso Io spero riprenda proprio La cupezza E Proprio la forza Di Dead Space Perché Dead Space È un gioco Invecchiato Alla grande Esatto Ancora oggi Dead Space Riesce a spaventare Sia per atmosfere Ma anche proprio Per i mostri Cioè a me I necromorfi Fanno proprio paura Ma anche proprio Il gameplay Cioè comunque Il gameplay Non è per niente Invecchiato Quello del primo Rispetto ad Uncharted Perché riguardando Da Sam Uncharted Ho detto Cazzo Come è invecchiato male Sto gioco È invecchiato male È invecchiato veramente male Sì No Dead Space A parte magari Ovviamente A livello grafico Che come siamo Adesso abituati Si vedono Dalle differenze Rispetto a qualcuno Che risale Cosa è il The Big 8 Su Eh sì 9 Su PlayStation Terrà Però Se lo prendi Tuttora in mano Dead Space E Specificare Mi piace lo stesso A spaventarti Cioè almeno Io che sono un codardo A me spaventa E uno dice Io sono quello Che quando ho un'arma in mano E posso sparare Faccio più fatica A spaventarmi Dead Space Mi fa molta più paura Di Un'amnesia A me Fa proprio paura Anche se ho la possibilità Vabbè Ora io qua sto Cosando con questa luce Di merda Amnesia è fantastico Lo amo Sono due tipi di paura Diversi Sì 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 Da questo posto Dead Space È una paura Molto tattile Sì Ha un'idea Molto psicologica Amo Come anche Silent Hill Silent Hill È una paura Molto psicologica Terribilmente Psicologica Però Dead Space Ha delle atmosfere Disegnate Studiate Proprio Da Dio Atmosfere Gameplay Peccato che Ia ha rovinato Tutto dal 2 in poi Peccato che Ia fa schifo E sono dei bastardi No Che recentemente Hanno chiuso Lo studio Vabbè Hanno chiuso La produzione Lo sviluppo Di Anthem Vabbè Diciamo che Io Anthem L'ho provato Ma mi hanno fatto cagare No Io vabbè Ci ho giocato Una sessantina di ore Mi ci sono divertito Per tutte le sessantina di ore Però Appunto Il problema più grande Era il loot Perché il gioco andava bene Ma l'unico problema Era il loot Cioè Te Quando facevi Le cose A livello più alto Arrivavi fino al 300% Di drop Di leggendari E non li droppavi Cioè 300% È alto Non lo droppavi È un problema Che comunque Ora A diva di Anthem Cioè Proprio in quel genere Di giochi Spesso e volentieri Che sono I gas Tipo Quelli sono I shoot and loot Ma Un gioco Un game service Esatto Tu prendi Ad esempio Che ne so Destiny O comunque Anthem In questo caso C'è il rischio Più grande Che quando Vengono rilasciati Siano incompleti Anche Questa è una cosa Che io per esempio Notai tantissimo Con il primo Destiny Ora non so bene Anthem Se tu dici Che ho un problema di lutta Allora lì Ci sono altre problematiche Però Boh È un peccato Perché comunque D'altra parte Hanno la potenza Questi giochi Di essere Di essere molto longevi E di essere Aggiornati in continuazione E avere Proprio in tempo reale Un bel feedback Dalle comuni Quindi se poi Gli sviluppatori Iniziano a trascorare Come Anthem Che magari Non hanno mai fixato Il problema di lutta No ma Anche Un grosso problema Di questi giochi È Tu Fai un gioco Che non Non funziona Alla grande Inizialmente E quindi Devi riuscire A sistemare Il gioco In più Devi aggiungere Contenuti Non ce la fai Così come ha fatto Anthem Hai troppo Da fare Anthem dovevano Aggiungere roba Invece di sistemarlo Come Cyberpunk Hanno stoppato La Lavorazione Per il multiplayer Per sistemare Per sistemare Il gioco E questo È un gran problema Perché appunto Io adesso L'ho finito Tutti Comunque Tutti gli altri Finali Li ho sentiti Da te Anche con Devil Quando abbiamo Parlato Eccetera Comunque Anche poi Dal cambio L'ho sentito Perché ho parlato Anche con lui E quindi Bella fecca E quindi Non mi va Di rigiocarli Non c'è Non c'è più Nulla Ora Perché Di missioni Secondarie Mancano Quelle Da trovare Tutti i tarocchi E ammazzare Tutti gli psicopatici Però Non puoi fare Tutti e due Atemporaneamente Esatto Ed è molto Più Furbo Sistemare Prima i problemi Che aggiungi al contenuto Perché se tu hai dei problemi Poi aggiungi anche Dei contenuti nuovi Rischi di avere Ancora più problemi Di prima Però speriamo Che possano risolverli In fretta Che possano Continuare Ad arricchire Cyberpunk In questo caso Per Anthem Boh Personalmente Non mi fa Né caldo Né freddo Ora Chiuso proprio Non so se Hanno chiuso proprio Il gioco No 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 Solo annullato Lo sviluppo La Bioware Non Ok ok Meglio Meglio Ma Di questo tipo di genere Come hai detto te È un Shoot È un Shoot and loot Ho provato Looter shooter Sto provando È iniziato a provare Outrider Sì L'ho provato Sto provando la demo con Samu Se vuoi inirti Sei benvenuto E non mi dispiace Se devo essere sincero Non so se hai avuto modo di provare No L'ho visto in video E mio fratello Mi rompe le palle di giocarci Io dico I giochi di merda Non ci gioco No No A me sembra di vedere Un Gears Misto ad altro A un The Division Destiny Warframe Allora Devo finire la demo Per quel poco che ho visto Mi ha preso Mi ha preso un sacco E non l'avrei mai detto La storia E l'ambientazione di gioco Mi ha preso veramente tanto Non so se posso dire Se la sai spoiler Magari la sai già Mi dica lei Non lo so Non lo so Non lo so Non ti dico nulla No non dire niente Dai non la vedo poi Io quando avrò voglia E quello mi ha preso tanto Per quanto riguarda il gameplay Ho fatto veramente poco Ieri con Samu Dobbiamo continuarlo E per quel poco che ho fatto Mi ha divertito Cioè devo dire che mi sono divertito Dunque la cosa bella È che tutti i progressi della demo Ti andranno sul gioco finito Esatto Esatto Quindi quello ci sta Ci sta Vabbè dai Io credo che abbiamo Parlicchiato per la nostra orettina Abbiamo parlato più o meno Di tutti i film che ci sono venuti in mente Di videogiochi e non solo Esatto Ma comunque è stata la puntata Molto molto carina Qui Metto sempre la canzoncina Così arriviamo alla fine E vabbè signorini Che dirvi Spero che comunque Se non vi siete visto I film di cui abbiamo parlato Quell'altro arriva in un'emicranea Forse di vogare Se non vi siete visti I film di cui abbiamo parlato Le serie comunque Dateci un occhio Perché sono veramente Veramente belline E insomma Iniziate a bere un po' di whisky Di rum Scotch Barbon E cose Perché È un fantastico mondo Insieme a noi Mamma mia ragazzi Che poeti Che poeti che siamo Vabbè signori Noi ci si vede Martedì prossimo Alle 14 Con una puntata Concentrata sulla storia Un piccolo spoiler Speriamo che esca bene Devo riuscire a capire Ancora bene Come farla Quindi niente Dai Ci si vede Ragazzi Prossimo martedì Arriva prossimo Ciao belli Ciao ragazzuoli Ciao 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 belli Ciao belli Ciao belli Grazie a tutti.